mara venier non ce la fa crolla in lacrime in tv a domenica in grazie fedez mi hai aiutato ma non abbiamo fatto in tempo dice con la voce spezzata poi si ferma la conduttrice durante l'intervista al rapper 34 n cede al dolore l'artista commosso replica non è andata poi si alza va da lei e la braccia fortissimo anche il volto di federico si riempie di lacrime il pubblico applaude il momento è toccante tutto lascia presupporre che la zia abbia chiesto aiuto al marito di chiara ferragni per provare a salvare il genero pier francesco forleo il compagno della figlia elisabetta ferracini morto lo scorso giugno a causa di un tumore che lo ha annientato in pochissimo tempo mara piange e fedez fa lo stesso nel confortarla l'angoscia del male che ti porta via è ben presente in entrambi il rapper dopo aver sconfitto il tumore anche recentemente è stato ricoverato per due ulcere e un principio ischemico allo stomaco aveva un'emorragia interna i medici lo hanno salvato ancora una volta ora sta meglio ma fedez ha ancora paura del suo difficilissimo percorso dice mi sono trovato a fare i conti con la possibilità di morire e affrontarla in maniera così precoce non è sano per la mente anche dopo l'intervento e aver curato la malattia c'erano degli strascichi avevo questa volontà di fare ingestione di vita dormivo poco uscivo sempre cercavo di frequentare quanta più gente possibile poi associato a una cura farmacologica mi sono ritrovato a prendere più di sette psicofarmaci di categorie diverse tutti insieme e mi hanno portato ad avere un attacco ipomaniacale quindi non dormivo ero molto agitato non ero lucido e facevo cose strambe ho messo a rischio la stabilità della mia famiglia oltre che la mia stabilità fisica è stato un percorso molto difficile non era tanto la dipendenza fisica in sé dopo sanremo dove ero nel culmine della mia poca lucidità la mia bocca smette di funzionare comincio ad avere dei tic e non riesco più a parlare in maniera fluida stoppo tutti i farmaci senza scalarmi e quindi ho avuto l'effetto rebound che è bruttino perché sono stato due settimane senza camminare per i crampi alle gambe non distinguevo i sogni dalla realtà avevo sudori freddi disorientamento dopo senza farmaci sono caduto in una depressione profonda e ce n'è voluto un po racconta lucia